al grande fratello i giochi sono quasi fatti mancano due puntate semifinale e finale e poi finalmente conosceremo il nome del vincitore della vincitrice in casa al momento ci sono alessio falsone beatrice luzzi federico massaro giuseppe garibaldi greta rossetti letizia petris massimiliano varrese perla vatiero rosy chin sergio dottavi e simona tagli chi vincerà secondo i bookmakers tra tutti gli undici concorrenti la favorita è beatrice luzzi quotata 1 35 dalla snai 1.40 da gold bette da better subito dietro di lei troviamo perla vatiero quotata 3 50 su tutte e tre le piattaforme poi giuseppe garibaldi che è quotato a 4 0 0 e al quarto posto in questa lista c'è rosy chin quotata 15 0 0 per la snai e a 11.00 per gold bette better insomma secondo gli scommettitori beatrice prima e per la seconda ovviamente bisognerà aspettare lunedì sera per sapere se hanno ragione ma proprio tra le due pare sia nata un'insolita alleanza nella casa dopo la guerra che si sono fatte per settimane a colpi di accuse forti e offese ora che il reality sta per chiudere i battenti invece il clima essere decisamente diverso di sicuro beatrice perla sono due protagoniste indiscusse di questa edizione e da quanto accaduto nelle ultime ore sembrano aver deposto l'ascia di guerra hanno infatti ricevuto un aereo con scritto come loro due fossero il gf e mentre erano in giardino a ringraziare i fan si sono abbracciate forte